Siamo ancora sul corrente Pese per la seconda briglia, sulla condotta che fa partitore libertino serbatoio cortale. Come abbiamo visto prima questa è la briglia, la nostra condotta è sotto i miei vedi? Eccola qua, quello azzurro che si vede in fondo e alle mie spalle c'è il pozzetto dell'acquedotto, sopra c'è il partitore libertina, adesso lo dobbiamo pulire come abbiamo fatto sotto con la speranza che riusciamo a intercettare la condotta che abbiamo visto. Ecco, sul muro come potete constatare c'è l'acqua che trovi indietro, vede? Ecco qua. Stiamo cercando di farci una pista, l'altro escavatore dall'altra parte.